Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede, a il pomeriggio, dopo palestra, verso le salle... Verrà inaugurata il prossimo 29 aprile la scultura luminosa realizzata dal maestro Marco Lodola dedicata a Ivan Graziani. Sarà questo il momento clou dell'iniziativa Ivan per sempre, che a partire dalle ore 18 animerà il centro storico della città. Un omaggio all'artista che ha fatto conoscere il suo nome, la sua arte e la città di Teramo all'interno del panorama artistico, non solo nazionale ma anche europeo. A partire dalle ore 18 ci sarà l'inaugurazione di quest'opera che è stata commissionata dal maestro Marco Lodola, artista di fama mondiale, che appunto renderà omaggio al nostro Ivan come era giusto che fosse e come da tempo anche i Teramani si aspettano. Quindi finalmente ci siamo, sarà un'opera permanente per la città di Teramo che ricorderà Ivan Graziani e soprattutto metterà in risalto quello che lui è sempre stato per noi, per i Teramani, per l'Abruzzo e quindi siamo molto molto contenti noi di Big Match di aver abbracciato questo progetto. A coronare il tutto ci saranno dei gruppi che partiranno dalle venti a suonare e a ricordare le canzoni di Ivan, da lungo Corso San Giorgio fino a Corso dei Michetti. Una testimonianza di Ivan che possa essere ammirata dai Teramani e dai turisti in visita a Teramo affinché nessuno lo dimentichi. Da qui è nata l'esigenza di questa proposta supportata dal Comune di Teramo e che ha portato alla realizzazione di un'opera creata da uno degli artisti più apprezzati del panorama contemporaneo. Un artista che è stato ambasciatore di Teramo fuori dai nostri confini e quindi poter far questo con la collaborazione di un artista di chiara fama nazionale e internazionale come Marco Lodola ci sembrava il giusto riconoscimento per questa straordinaria figura che in qualche modo lega fortemente tutti i Teramani e che in qualche modo oggi trova il dovuto riconoscimento per lo straordinario lavoro, la straordinaria valenza artistica, lo straordinario portato che è rappresentato per la comunità Teramana. L'opera dove verrà posizionata? All'altezza di Largo San Matteo, sono in corso i sopralluoghi quindi nei prossimi giorni verrà identificato il punto preciso però in qualche modo possiamo dare appuntamento ai Teramani per il prossimo 29 di aprile in Largo San Matteo per scoprire questa meravigliosa opera di Marco Lodola per ricordare Ivan Graziani.